Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano. Non lo posso dire, guarda, mi sta venendo una cosa strana. A voi andate ogni tanto su cittadebimbi.it? No, no, mai. E che ci fate qua? Per me iscritti? Io per me iscritti. Allora, io sono capitano Conte, cittadebimbi.it, se avete dei problemi, delle denunce da fare, voi mi chiamate, arrivo io e vi risolvo la situazione. Andate sul sito, trovate tutte le informazioni. Ok, grazie. Mi raccomando, chi sono io? Grazie al blocco, blocco Conte. Oh, bravi, ora presentazioni fatte, mi raccomando, cittadebimbi.it, ripetiamo. Cittadebimbi.it Le sanno tutte. Avrò il buon tesoro perché sono il capitano e con la mano in alto ti do il mio tempo, segui il rimbo del capitano. Non è che neanche per il pagamento del minimo c'era tutta stabilita. Come c'è in stasi figuri? È vero, il F24, non c'è tutta stabilita. C'era questa telematica in studio per averlo per la coda qua, è possibile. Però per i bambini, è vero. Poi noi col casco ce la infeliamo. Abbiamo la stessa testa. È così. Ci capiamo. Però ci vogliono manifestazioni del genere o no? Ci vogliono, le meritelle. No, sono in vita sedentaria come me, quindi dobbiamo portare i bambini a fare un po' di sport. Tu sei un supereroe. Io li smaltisco subito. Lei però mi raccomando, faccia fare sport. Sto aspettando. Cosa fai, cosa vuoi fare? Tutti, grande, il muoto e la parola, il continuo. Cioè non vuoi fare soltanto il muoto e il patinaggio, per il resto le fai tutte. Bravo. Mamma mia, addominale ci sono, bicipiti ci sono ragazzi, le fa tutte. Segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono i capi. Poi si chiami? Come me, Antonio. Da dove vieni? Nella casa, tre Antoni. Lui, il mio amico e l'altro. Cioè tre Antonio in casa? No, un amico. E la? Beh fai parlare Antonio. È il mio cugino. È il tuo cugino. Le donne, poi capirai Antonio le donne. Le donne sono proprio un po' di parola. Non si dicono queste cose, non si dicono. Da dove vieni? Da Mola di Paris. Siete anche qui apposta. Sì, perché io dovevo fare canoa e nuova. Bravissimo. Dove hai visto? Qual è il sito che hai consultato per venire qui? Cittadebibi.it. Tutto? Tutto. Cittadebibi.it. Brava, dillo, dillo. Cittadebibi.it. Bravissimo. Cittadebibi.it. Siete bravissimi. Mi raccomando, non affondare con la canoa perché altrimenti... Io non posso andare anche nell'acqua profonda. Sai andare nell'acqua profonda? Sai muotare? Sì, anche di 72 metri. 72 metri. Antonio va nell'acqua profonda 72 metri. Mi raccomando, eh? Arrivederci Antonio. Io vado nell'acqua profonda. Lei di qua? Ok. Andai, mi raccomando. Mi raccomando. Di qua, di qua, di qua, di qua. Conseguendo il popatino, bello come il mondo, rotondo. Io mi ci tuffo, mi ci impossesso, perché sono il capitano. Conto in banca. Come lui? È quasi. Ho preso una persona sbagliata. Penso che sarà la situazione di tutti gli italiani tra poco, eh? Guardi, ma non è che stiamo sbagliando. Mettiamo le sue generalità, anziché quella del bambino. Tanto è lo stesso, no? Ah, io lo so che lei vuole andare a far canoa. Le voglio divertire anch'io. E lo sappiamo. Io poi sono stato campione italiano di canottaggio, quindi qui ci ho vissuto. Campione italiano di canottaggio? Mi tolgo la maschera per rispetto. 14 anni con... Abbiamo ancora, eh? Non c'è più nulla ormai, 14 anni. C'erano 53, quindi ormai abbiamo... Vogliamo fare, no? Le rete... Sì, se c'è una Bepi Altamura, che è il mio allenatore, non so se vive ancora volentieri. Lei deve sincerarsene prima di queste cose, però. Ti faceva canottaggio, insomma, era molto duro. È molto duro, eh? Non nel senso della Lega. Vabbè, lei è qui per... Io sono qui per il piccolino, per fargli provare qualche scuola. Lei è qui per... Per divertirmi. Lei è qui per... Aspetti che me la riletto. Lei è qui per... Lei è qui per... Guardi, non me ne vado, mi siedo qua. Lei è qui per... Per la scoppia per la città dei binghi. E quindi lo dica bene, diciamo, ai nostri amici ascoltatori. Per la manifestazione per la città dei binghi, perché è difficilissimo. Lei è qui per... Buvu. 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 Buvu, città dei binghi, punto il team. Elementare, Watson. Eh, come... La cronche è proverante, muovi a tempo il bacino, solo scappi. Che ritaccia, eh? Eh sì, dicevo, forse la notte bianca andrà via in montino oggi. Che ritaccia. No, guardi, noi avevamo calcolato il flusso, così. Ci sono venuti da Mola, Ripari, da Monopoli, da Puglia. Internazionale, non c'è? Lei ha un accento napoletano. Sì. E' quello da Napoli? No. E' commerciale di Napoli, ma io... Me lo faccio, perché dicevo, guardi... Se vieni da Napoli, cioè... a livello interregionale ma noi diventiamo a livello cosa facciamo fare il bambino impegno in più vabbè sicuramente tutte le discipline previste ma si anche a prova un pallo di gruppo volenti latinoamericani caraibici ci sono ci sono i palli li può fare lei nel tempo che il bambino fa nuoto lei va bene viene con noi a fare i palli di gruppo e il charaui purtroppo oggi non si può scatenare perché il calcio non c'è però infatti la prima cosa mai chiesto calcio non ce l'avevo pensato il bambino sono il capitano uncino